Normalmente quando si tratta di fotografie di ritratto io utilizzo software un po' più conosciuti come Lightroom, Capture One, Photoshop e così via, ma c'è un software gratuito che è stato il primo software che ho utilizzato per quanto riguarda la fotomanipolazione ed è completamente gratuito, ed è GIMP o GIMP se vogliamo leggerlo come si scrive. E' un software open source, completamente gratuito, è un tool molto potente e se lo vogliamo definire potrebbe essere un incrocio tra un Photoshop e un Paint, almeno nell'interfaccia grafica. Ma andiamo a scaricarlo e facciamo una prova con una foto per vedere che cosa si può fare con una fotografia di ritratto. So che molto è cambiato da quando l'ho utilizzato la prima volta e sono curioso di vedere che cosa riusciamo a fare. Siamo pronti? Allora, andiamo sulla pagina di GIMP, come potete vedere qui c'è il bottone per scaricare la nostra applicazione. Se volete fare una donazione per sostenere questo fantastico software open source, qui c'è il pulsante per donare, quindi per rendere questo software sempre più completo e particolare. Ma adesso apriamo la nostra immagine di prova e vi faccio vedere di che si tratta. Allora, qui abbiamo la nostra immagine, come potete vedere questa immagine presenta alcuni problemi, come è ben evidente, ma andiamo a provare a lavorarla utilizzando il nostro software. Apriamola con GIMP, quindi apri con, utilizziamo GIMP, il tempo che carica e vi faccio vedere che cosa possiamo fare. Allora, ci chiede di convertire il profilo colore, va bene, convertiamo il profilo colore. Allora, rinominiamo il nostro livello come base, immagine presa in maniera gratuita da Pexel. Andiamo a duplicare il livello e iniziamo a lavorare questo livello chiamandolo ritocco. Ora, sul livello ritocco, gli strumenti che maggiormente possiamo utilizzare sono fondamentalmente due. Lo strumento cerotto e lo strumento duplica. In questa situazione va benissimo lo strumento cerotto. Andiamo a zoomare sulla nostra immagine per visualizzare meglio i vari problemi. Quindi, H per strumento cerotto, lo strumento cerotto ci permette di selezionare un'area e di andarla a fondere con quella sottostante. Quindi mantenendo un certo grado di realismo senza andare a piallare tutto. Come potete vedere il colore sottostante rimane, ma non vi preoccupate che otterremo un risultato uniforme e breve. Utilizzando un'altra tecnica. Allora, risolviamo prima tutte le problematiche relative ai punti più gravi. Quindi, CTRL. Prendiamoci i nostri punti. Adesso velocizzerò un po' il processo perché, purtroppo, questo è un lavoro certosino che deve essere fatto per piccoli punti. Non c'è un modo più rapido, ma vi assicuro che dopo sarà molto più rapido e veloce da risolvere. Prendiamoci i nostri punti. Come possiamo vedere, lo strumento cerotto è uno strumento molto potente. Se andiamo a fare un prima e un dopo c'è già un forte cambiamento, ma non ci basta. Abbiamo uno strumento che è quello della divisione in frequenza, che molto spesso facciamo manualmente in Photoshop. In Gimp invece si trova direttamente in filtri, quindi noi facciamo filtri. Andiamo a fare miglioramento, scomposizione in frequenza, quindi ci scompone, ci fa questa divisione in frequenza. Possiamo scegliere il numero di livelli. 5 per iniziare mi sembra ideale, quindi clicchiamo su OK. E andiamo a lavorare su una divisione in frequenza. Ecco qui, abbiamo il nostro livello. Qui abbiamo quello che è il colore e qui invece abbiamo il dettaglio. Se andiamo ad esempio a togliere i dettagli sulla scala dei grigi, ecco qui, abbiamo un livello con il solo colore. Se invece andiamo a riattivare i vari dettagli e andiamo a togliere il colore, ecco qui. Abbiamo un livello solo sui dettagli. Man mano i dettagli sono sempre più sfumati, quindi da quelli più evidenti a quelli meno. Ok, disabilitiamo il nostro livello ritocco, disabilitiamo il nostro livello base. Spostiamoci. Ok. Spostiamoci sulla nostra immagine. Un po' di zoom indietro. Ok. Utilizziamo lo strumento colore, utilizziamo lo strumento lazzo, utilizziamolo per selezionare un'ampia area, evitando di selezionare anche sopracciglia, bocca e naso. Ecco qui. Ok, andiamo alla nostra selezione. Adesso andiamo semplicemente a fare i filtri, sfocatura, sfocatura gaussiana e facciamo salirla fino a un 28, da un 28 a un 30%, per rendere tutto più uniforme. Quindi andiamo su un 28%, iniziamo a uniformare il colore. Ok, applichiamolo. Adesso, deselezioniamo, ci spostiamo su quest'altra parte dell'immagine, andiamo a selezionare con il nostro strumento lazzo quest'area della fronte. Adesso, attenzione a non prendere i bordi, teniamo parte del naso, andiamo fino a qui. Cerchiamo di evitare le estremità. Ok, anche questa volta andiamo sui filtri, sfocatura, sfocatura gaussiana, saliamo da un 25 a un 30%, quindi andiamo un po' meno. 28, 27, 28, dai. Mi sembra abbastanza realistico. Ok. Qui è sfocato, ok. Deselezioniamo, quindi seleziono. Togliamo la nostra selezione. Iniziamo a vedere un po' i risultati, forse ho anche un po' esagerato, potremmo scendere anche un pochino meno. Comunque abbiamo la nostra scomposizione, questo è un prima, questo è un dopo. Come potete vedere la differenza è già abbastanza evidente. Se vogliamo fare un lavoro certosino, possiamo anche andare sulla scala, disabilitare il nostro punto, andare a zoomare in alcune aree. E ad esempio, fare dei lavori più precisi. Ad esempio, vogliamo togliere questo punto, andiamo sul pennello, campioniamo, aumentiamo la durezza, campioniamo un punto di mitrofo, e andiamolo a pennellare. Ok. Andiamo sulla scala di grigio, campioniamo, andiamolo a pennellare. Finché per i vari livelli non scomparirà del tutto. Sì, qua abbiamo una prima e rapida soluzione per ammorbidire la nostra pelle in GIMP. Ovviamente l'immagine non è completa, si deve ancora fare dei lavori, tipo pulire ancora meglio il dettaglio, sistemare il colore, ed eventualmente andare poi a fare tutta quella parte di fotoritocco per quanto riguarda la color, e ottenere un'immagine pulita. Ragazzi, che dire, è un software completamente gratuito, è un primo modo per imparare il fotoritocco, perché andare a pulire la pelle di una persona con GIMP o con Photoshop invece di utilizzare intelligenza artificiale e filtri, perché così potete andare innanzitutto a lavorare di più nel dettaglio. E in secondo luogo, adesso vi faccio vedere, non andare a perdere quelle che è le tracce della pelle, insomma la, diciamo la texture che c'è sotto, cosa che molto spesso invece andando a utilizzare dei software o dei filtri non si ha, si è completamente piallate. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia tornato utile, se questo video vi è piaciuto o vi è tornato utile condividete con i vostri amici e darmi una mano a far crescere il canale. E con me, se vi va, ci vedremo nel prossimo video. See you next! Ciao!